Ciao, coglioni inutili! Eh? Come? No, cioè io non mi ho offesi, io ho detto ciao a bellissime persone. Non so quello che avete capito voi. Vabbè, comunque, prima che mi alteri, benvenuti in questa nuova puntata della rubrica No Food Porn, in cui mangiamo cibo. Che non sia food porn, che non siano i soliti panini che si vede ovunque su YouTube. Cibo, normalissimo, inutile, e però sazia, e va bene così, va bene così. A questo serve il cibo alla fine, no? Cioè, almeno sazia per nulla, magari saziasse. Se ti lascialo con una fame che poi ti mangi un barattolo di Nutella da solo. Vabbè, oggi comunque la casa propone questi bellissimi spiedini fatti da mia nonna. In realtà fatti dal supermercato U, punto esclamativo, che è il supermercato di mia nonna. Quindi li ha fatti mia nonna. Eccoli qua. E non ci aggiungerò nulla sopra, salse, cose, sale, olio, pistacchio, Nutella, pizza, banana. No, al massimo, cioè, se proprio gli devo dare un po' di sapore, ci sborro sopra, ok? Se gli devo dare un po' di sapore, ci sborro sopra. Ma non salse, cibo spazzatura. Solo cose naturali. Che poi ci ha già squirtato sopra mia nonna, quindi... Guardate, raga, c'è pure una fogliolina di marijuana in mezzo. Inchia, raga, è cotto pure male. Ma che cazzo è? Ma che è sta roba? È rosso. È il sangue. Devo denunciare il supermercato di mia nonna. Uno fa di tutto per evitare il cibo spazzatura e poi ti danno il pollo crudo. A sto punto è meglio il cibo spazzatura, no? Ragazzi, siete voi testimoni? Il supermercato è questo qui. U punto esclamativo. Se dovessi morire misteriosamente per un'intossicazione alimentare, sapete chi ringraziare. Recensioni positive al supermercato U punto esclamativo, che è il supermercato di mia nonna. Meno male che questo video doveva essere contro il cibo spazzatura. Secondo me questo pollo fa più male della droga. Mi sembra di star mangiando il catrame. Ma poi è pieno di olio, raga, ma cos'è? Sembra fritto. Cioè a questo punto vado dal KFC. Spiedini di pollo a 1,88€. Mi ha fatti mia nonna, però mia nonna me li vende perché non mi riconosce più come nipote. Chissà perché.